In rappresentanza qui oggi per la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che ha sostenuto attraverso un contributo questa iniziativa, in particolare all'interno della settimana della bioarchitettura, questo convegno sulla ricostruzione degli edifici pubblici del Comune di Mirandola. Il perché la Fondazione sostiene queste iniziative è legato al fatto che negli ambiti di intervento la Fondazione privilegia ovviamente interventi sul proprio territorio di competenza, quindi la Fondazione di Mirandola, un edificio di pubblica utilità di Mirandola è pienamente all'interno degli ambiti prioritari di intervento della Fondazione. L'altro motivo che ha consentito la Fondazione di intervenire è il fatto che si intervenga su un edificio pubblico importante, storico, vincolato con problemi di progettazione complessi, ma per certi versi è anche interessante dal punto di vista dell'innovazione che dal punto di vista progettuale si può apportare alla ricostruzione, alla riconversione di questo edificio, al riutilizzo dell'edificio. La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola non può intervenire per scelta e per la finalità sulla ricostruzione dell'edificio in quanto tale, quindi ricostruzione edilizia, può fare invece interventi come questo, cioè di sostegno con contributi diretti alla progettazione e l'elaborazione progettuale di questi interventi innovativi sul patrimonio pubblico. Quindi pensiamo di sostenere questi progetti anche nei prossimi anni, secondo quello che l'Agenzia per l'energia di sviluppo sostenibile vorrà presentare, credo che l'apporto delle fondazioni, non solo la nostra, in questi anni sia cresciuto, quindi la collaborazione con l'Agenzia crediamo sia una collaborazione strategica, di prospettiva e pensiamo che quindi la partnership possa continuare nel tempo con questi interventi di innovazione sul territorio e sul patrimonio edilizio. Grazie. Grazie. Grazie.